prima di procedere con altri esercizi vediamo come poter creare una libreria di materiali che utilizzeremo spesso nei nostri esercizi solitamente questi materiali che andremo a creare sono utili per simulazioni molto semplici o comunque per sistemi basati su scanline questo perché come ho detto precedentemente è sicuramente molto più utile renderizzare con scanline che andare a renderizzare con sistemi molto più complessi come vray mental ray e così via naturalmente non è impossibile nel corso degli anni questi motori di rendering hanno subito una forte evoluzione e anche le particelle si sono adattate in tal senso quindi è possibile anche andare a realizzare effetti molto fotorealistici ad ogni modo vediamo come quindi poter crearci queste librerie mi sono creato all'interno del mio file diverse tipologie di emettitori anzi in realtà è lo stesso emettitore con diverse tipologie di particles di effetti di particles questo perché per ogni tipologia di materiale avremo comunque un effetto differente apriamo lo slate material e preferisco utilizzare uno slate material proprio per farvi vedere come poter concatenare direttamente dentro tutti i nostri effetti come abbiamo visto nel materiale standard abbiamo la possibilità di utilizzare una face map in questo modo quando utilizzeremo delle mappe che sono delle particles che sono planari quindi sono di modalità e facing abbiamo la possibilità di applicare questa mappa sempre grande quanto la faccia della nostra particles il fumo come abbiamo visto fumo comunque anche nuvole possiamo realizzare tranquillamente utilizzando materiale standard con modalità face map un diffuse andare a generare un gradient con un modalità frattale utilizzando delle dimensioni naturalmente sul nostro sul nostro noise e dobbiamo utilizzare anche una mask una mask che avrà sicuramente un gradient ma possiamo anche non usare un gradient e vedremo presto il perché e anche un gradient che sarà uguale che riprende praticamente l'effetto della nostra del nostro fumo una volta applicato il sistema particellare se andiamo a renderizzare noteremo come ora non proprio in questo caso però come esso possa funzionare bene come è stato per l'esempio della nuvola e della polvere nel deserto con la stessa metodologia possiamo andarci a creare anche un effetto di cascata l'effetto di cascata molto simile non a acqua vera e propria che si può realizzare utilizzando materiali ray tracing o materiali che sono più vicini proprio all'acqua ma utilizzando un effetto un po' di schiuma un po' di vapore acqueo questo vapore acqueo che anch'esso è realizzato tramite una modalità face map un gradient con però una colorazione più vicina all'azzurro e anche in questo caso abbiamo un gradiente circolare per la maschera e un gradiente che riprende praticamente è lo stesso però in scala di grigi che riprende praticamente la forma della nostra face map anch'esso se applicato avremo un effetto che può andare benissimo per simulare ad esempio un effetto di cascata all'interno di una scena 3d in lontananza o comunque un effetto di vapore acqueo questi effetti mancano di motion blur infatti se andiamo a attivare un po' di motion blur noteremo un effetto maggiore quindi noteremo che avremo un effetto più vicino alla realtà naturalmente si parla di effetti molto basilari e di effetti che si possono utilizzare per sistemi semplici con la stessa metodologia possiamo andare a realizzare una base per un fuoco con sempre un gradiente un gradiente con una colorazione naturalmente vicina dal giallo al rosso anche in questo caso la face map ma l'altra particolarità è che avremo comunque bisogno di un po' di specular quindi possiamo alzare o abbassare questo livello di specular e del glossiness per avere comunque un effetto più vicino alla realtà stessa abbiamo anche una self illumination in questo caso tramite un colore ma potremmo un colore sempre sull'arancione ma potremmo anche dare una self illumination tramite un valore numerico andiamo a vedere tale effetto anche in questo caso prima renderizziamo senza il motion blur però all'interno di 3ds max abbiamo anche la possibilità di utilizzare una mappa particolare una mappa particolare che è la particle age map questa mappa è una mappa che di default andiamo a caricarla particle age è una mappa con 3 colori e 3 slot negli slot posso caricare una qualsiasi tipologia di mappa e posso come lo stesso demo posso scegliere anche un qualsiasi tipologia di colore questa mappa va ad agire come dice il nome sull'età delle particelle di fatti notiamo che abbiamo age 1, age 2, age 3 abbiamo 3 tipologie quindi al tempo 0, al 0% quindi al tempo 0 avremo una sorta di colore dopo il 50% del tempo trascorso per esempio sulla timeline a 100 al frame 50 le particelle inizieranno a cambiare colore mentre verso la fine cambieranno ancora colore per l'ennesima volta in questo modo abbiamo possibilità di creare degli effetti particolari degli effetti particolari come per esempio nel questo materiale del fuoco abbiamo 3 diverse tipologie di colorazione e 3 diversi momenti naturalmente sono basilari in questo caso ma io potrei anche variarli nel tempo cosa vuol dire questo? vuol dire che se io vado a vedere un materiale fuoco che mi sono creato per ultimo il quale è un emettitore relativamente diverso poiché la tipologia di particelle che sono state applicate può variare sia modalità facing sia volendo potremo utilizzare anche delle sfere oppure dei triangoli, dei cubi o così via di fatti se ne andiamo a renderizzare notiamo diversi effetti abbiamo anche un motion blur applicato già di ripartenza a 2 un pochino più alto ma l'altra particolarità è sicuramente anche nel materiale stesso il materiale stesso ha uno specular uno specular un po' elevato ha un opacity molto più bassa non gestita tramite mappa in questo caso volendo possiamo anche portarlo a 10 alziamo un po' anche il suo specular e l'altro aspetto particolare è nell'extended parameters l'extended parameters è un rollout che pochi conoscono da qui possiamo regolare quello che riguarda sia il wave frame sia altre tipologie di trasparenza che in questo caso sono date tramite un colore che di default se infatti andiamo a verificare con un altro materiale di default abbiamo un grigio 128 in questo caso invece il grigio è stato relativamente alzato un pochino possiamo portarlo verso il bianco o un po' verso il nero lo andiamo ad alzare un pochino a 190 per esempio va benissimo in questo modo avremo un effetto totalmente differente se andiamo a vedere ora non avendo luce in scena se andiamo a posizionare una luce avremo anche un effetto di illuminazione aumentando l'intensità naturalmente aumentando anche magari andando lo specular possiamo portare uno specular leggermente differente avremo degli effetti differenti questa tipologia di materiale lo possiamo utilizzare come vediamo su diverse tipologie di particelle sia su quelle sferiche su quelle cubiche questi materiali sono dei materiali che si possono utilizzare e che utilizzeremo sicuramente c'è bisogno di andare a creare una libreria in 3DX Max 2014 come dalla versione 2010 è stato introdotto lo Slate Material Editor questo material editor è un po' ostico per chi magari non lo conosce o per chi si avvicina per la prima volta a 3DX Max o per chi era abituato al Compact Material Editor questo Compact Material Editor dal quale vediamo che non abbiamo la possibilità di creare una libreria ma soltanto di aprirla quindi per comodità andiamo nello Slate Material New Material Library e andiamo a trascinare i vari materiali e andiamo a trascinare i vari materiali per salvare la nostra libreria a tasto destro save e in automatico lo andremo a salvare naturalmente possiamo creare anche altri materiali possiamo andare a creare un materiale Ray Trace per esempio il materiale Ray Trace è un materiale che veniva utilizzato quando ancora non c'era l'Ark & Design con Metal Ray ma allo stesso tempo veniva utilizzato tantissimo anche in Scanline e viene ancora utilizzato tantissimo in Scanline per poter ricreare degli effetti come il vetro e come l'acqua è un materiale un pochino più complesso rispetto allo standard poiché esso ha al suo interno alcuni parametri avanzati come ad esempio il controllo della rifrazione vediamo possiamo controllare il colore dell'ambiente possiamo controllare il colore del diffuse quindi se vogliamo creare dell'acqua possiamo dare colore vicino all'acqua per esempio o anche totalmente bianco la riflessione che nera non avrà riflessione bianca avrà una riflessione al 100% ma conviene sempre non dare 255 per esempio 230 o 240 se proprio vogliamo per evitare di avere problemi di highlights allo stesso tempo anche nella transparency quindi nella trasparenza andiamo ad assegnare lo stesso colore l'index of refraction lo possiamo portare a 1,57 che è quello dell'acqua anzi in realtà avremo più di una tipologia di rifrazione di indici di rifrazione data anche dalla tipologia di acqua e da com'è posizionata all'interno di un contenitore per esempio sembra strano ma l'indice di rifrazione che abbiamo su un bicchiere l'acqua a contatto con l'aria avrà un indice di rifrazione diverso dall'acqua al contatto con il contenitore con il vetro per esempio ma in questo caso possiamo anche sorvolare possiamo aumentare lo specular se vogliamo e il glossiness allo stesso tempo possiamo anche dare un colore di environment una mappa di environment questa è diciamo la tipologia di acqua più basilare che possiamo andarci a ricreare allo stesso tempo abbiamo ricreato anche un effetto di vetro se vogliamo quindi sono molto molto simili le tipologie possiamo anche scegliere diverse tipologie di shadering quindi di reazione di comportamento e di assunzione della luce del materiale in esso per esempio un blin per esempio un metal e quindi avere anche diverse tipologie di elaborazione di spettro sicuramente l'acqua è uno di quei materiali che si può andare a realizzare volendo anche con motori di render avanzati quindi non c'è assolutamente bisogno di utilizzare per forza un ray trace o uno standard guarda di utilizzare di utilizzare di utilizzare di utilizzare Grazie a tutti